Si terrà a Pesaro la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall'AMMIL provinciale domenica 13 ottobre, con un momento di confronto a partire dalle 10, che si terrà a Palazzo Gradari in merito ai dati del 2024 studiati in provincia dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Provincia che sembra segnare il passo su questa piaga, dove rispetto allo stesso periodo del 2023 i dati al 31 luglio indicano una sostanziale parità. 2411 denunce, un caso in più rispetto allo stesso periodo gennaio-luglio del 2023. A livello regionale gli incidenti sono cresciuti dell'1%. In calo le denunce per infortuni mortali passate nel Pesarese da 4 a 1 e a livello Marche da 15 nel 2023 a 9 casi nei primi sette mesi del 2024. Una controtendenza che non riguarda il quadro nazionale. I primi sette mesi hanno fatto registrare 350.823 denunce, 1,7% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Così come sono leggermente aumentati i casi di incidenti mortali passati dai 559 episodi del gennaio-luglio 2023 ai 577 casi dei primi sette mesi del 2024. Sul versante malattie professionali il periodo gennaio-luglio nel Pesarese ha fatto registrare 1.099 denunce, ovvero 35 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Non va altrettanto bene a livello regionale dove le malattie professionali sono aumentate del 14%, passando da 4.329 a 4.934 casi. Lo stesso dicasi a livello nazionale dove si è registrato una preoccupante impennata dei casi passati da 44.433 a 54.471 con un più 22,6%. –